La tendostruttura del Campo Coni di Avellino è una canicola, così da domani il centro vaccini del capoluogo si trasferisce al Pala del Mauro. Una decisione presa per tutelare chi deve sottoporsi al vaccino, ma anche e soprattutto medici e operatori costretti a lavorare tutto il giorno sotto quella che con le temperature di questi giorni si è trasformata in una vera e propria cappa. La campagna non subirà rallentamenti, il trasferimento del centro avverrà di notte. Questo centro, così com'è molto bello, l'abbiamo sfruttato fino ad ora, ma adesso non è più utilizzabile in quanto le temperature ormai non lo permettono più. Quindi c'è stata la richiesta al sindaco di trovare un'alternativa al Campo Coni. Finalmente abbiamo trovato una soluzione alternativa che è il Palazzetto dello Sport. Quindi nella giornata di domani ci sposteremo al Palazzetto dello Sport, che sicuramente è più confortevole dal punto di vista della temperatura. E quindi diciamo che è più agevole pure per chi deve presentarsi a farsi la vaccinazione, in quanto qua ci stanno verificando molti casi di persone che comunque per l'alta temperatura non si sentono bene. La Morgante fa anche il punto sulla campagna vaccinale. Circa 4.000 al netto degli Open Day, le persone registrate non ancora convocate. Ieri avevamo solo più o meno 4.000 persone che non erano state mai convocate, al netto di chi già si era prenotata all'Open Day. Poi ci sta un'altra fetta di quelli che, quant'anche si siano prenotati sulla piattaforma Sinfonia, non si sono presentati invece nei centri vaccinali per la vaccinazione. Quindi l'obiettivo è recuperare tutte queste persone che nonostante la registrazione non hanno fatto il vaccino o addirittura chi non si è mai prenotato. Quindi dobbiamo spingere verso queste persone a convincerle che la vaccinazione è indispensabile per se stesse e per gli altri. Infine i vaccini nelle farmacie. Per la Morgante è tutto pronto. Forse già in settimana si partirà con le somministrazioni. Sicuramente partiranno. Abbiamo controllato e verificato attraverso il CTM tutte le farmacie, le 87 farmacie che hanno dato l'adesione. Procederemo appunto a consegnare Janssen alle farmacie. Quindi ci stiamo organizzando. Quindi chi si vuole rivolgere alla farmacia per sottoporso alla vaccinazione, benvenga perché come voi sapete appunto la presenza della farmacia nei vari comuni è capillare per cui diciamo chi contribuirebbe in maniera positiva al raggiungimento dell'obiettivo.